Ben tornato. Grazie, grazie davvero. E poi un piccolo presente, sempre ricordo questa bandiera che ha volato, questa finestra sul mondo, attraverso questa finestra sul mondo che sappiamo è stata costruita qui in Italia. È bellissima la mia. Grazie. Benvenuti. È un piacere accogliervi, unissimo, accogliere la nostra astronauta come, diciamo, fisti, soprattutto sentiti, metterla su. Ed è, comunque, è sempre emozionante vedere la nostra spazio. La ringrazio, signor Presidente, è sempre un onore e un piacere incontrarla e poterla ringraziare personalmente per il supporto, l'interesse e l'affetto con cui da sempre segue le attività di astronauti, dell'Italia e dell'Europa negli spazi. Come sa, siamo tornati a venire.